Messa nel mirino la trasferta di Brescia per la prima di campionato, la stagione della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sa presto ad accendersi con un'intensa pre-season. La squadra di coach Buscaglia inizierà il suo cammino domani, sabato 19 agosto, con il rituale raduno e visite mediche, previste anche nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 agosto. In quest'ultima data i biancorossi partiranno per il consueto ritiro di Carpegna, dove affronteranno le prime sedute fisiche e atletiche fino al 28 agosto, in attesa della prima apparizione in campo che sarà il 3 settembre alle 19 al Palacatani di Faenza contro la Virtus Bologna. Tre giorni più tardi Tambone e compagni saranno impegnati a Recanati alle 19.30 contro la Benacquista Assicurazioni Latina. Nel fine settimana del 9 e 10 settembre altre due partite per la VL che sarà di scena a Sansepolcro per il trofeo Dux. Sabato 9 alle 20.30 l'avversaria sarà la formazione romena del CSO Voluntari Bucharest, mentre domenica 10 alle 18.30, in base all'esito del match del giorno precedente, i biancorossi se la vedranno contro una tra Gevi Napoli e Destra Pistoia. Venerdì 15 e sabato 16 settembre altri due giorni in Toscana, stavolta per il trofeo Carlo Lovari in programma a Lucca. Alle 18.30 palla due del match tra Carpegna Prosciutto Basket Pesero e Tortona. Sabato 16 si tornerà sul parquet per sfidare una tra Venezia e Pistoia. L'ultimo appuntamento prima del debutto in campionato è previsto nel weekend del 23-24 settembre a Jesolo per il secondo Memorial Luca Silvestrine, dove alle 18 di sabato la VL si sfiderà contro Treviso, mentre domenica affronterà una tra Reggio Emilia e Venezia.